Restano sopra quota mille i nuovi casi di coronavirus in Toscana con un tasso di positività sopra il 10% sulle prime diagnosi su un totale di quasi 26.000 tamponi analizzati. Il governatore Eugenio Gianni di concerto con le Asle, con i sindaci del territorio, sta monitorando attentamente i numeri di tutti i 273 comuni della regione e si valutano nuove zone rosse nelle aree più esposte al virus e alle varianti. Nel frattempo a livello nazionale però potrebbero scattare ulteriori restrizioni. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico infatti ritengono che le misure in atto non siano sufficienti per allentare la morsa del covid. Così hanno chiesto al governo Draghi una nuova stretta. Con i cambiamenti che saranno effettuati in queste ore al DPCM del 6 marzo scorso si dovrebbe tornare alle regole in vigore durante le festività natalizie con le chiusure il sabato e la domenica a partire da questo fine settimana. Andrà poi deciso se impedire gli spostamenti delle persone come avviene in fascia rossa, ad eccezione di quelli per lavoro, salute e urgenza, oppure lasciare maggiore libertà di movimento come era accaduto durante le festività natalizie quando si era optato per la fascia arancione che impedisce di andare fuori dal proprio comune ma consente di uscire di casa dalle 5 del mattino alle 22. In ogni caso nella fine settimana anche in fascia gialla saranno chiusi tutto il giorno i bar e i ristoranti consentito soltanto l'asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio. Un vero e proprio lockdown scatterà invece nelle zone rosse dove chiuderanno anche le scuole oltre a negozi e locali pubblici. L'indicazione del comitato tecnico scientifico infatti non lascia spazio alle scelte dei presidenti di regione come accaduto finora perché fissa il parametro che rende automatico il passaggio nella fascia di maggior rischio la soglia di 250 contagi settimanali per 100.000 abitanti.